Ciao ragazzi, sono FireBet per questo nuovissimo video di Among Us Diciamo di startare, se no qua, addio E aspetta, start E oggi, ci fingeremo, come avete detto dal titolo, ci fingeremo in postori quando non lo siamo Se lo saremo, non ci vingiamo, se no, addio partita Allora, sperando che questi qua startano, se no, addio Speed player 1.5 Ok Ok Crewmate Tipo, ci fingeremo, cioè, se vediamo un corpo, per esempio, non lo riportiamo Se c'è la colla, io dico, sono stato io Roba del genere Già non si vede niente Poi se non batte anche le luci, non si vede una mazza Bene Facciamo le nostre task Perché tanto Allora Speriamo che ci crederanno, infatti nel titolo io avrò scritto, sicuramente Ci crederanno Sperandosi Ok, per esempio, ora I'm impostor Con anche un punto esclamativo Per fare una roba Ok I'm I'm impostor Non dove ci crederanno Per me no Ho fatto una partita di prova Non c'erano Ma sono morti tutti Ma siamo tre persone Ma secondo me questo qua c'è creduto Perché c'è Io continuo a spammare A caso Perché il nero ha scritto ok Ok Ah sì Ce l'ho creduto Mi voto da solo Ovviamente Allora Votatemi Dai Che tanto avete perso Perché tanto Non c'è via di fuga Allora Dai il nero vota Votemi No vuole Votemi Black Chissà Mi vota Io ho detto proprio Sì perché mi ha detto Ok Ha 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 I miei bosti Ah E vabbè Il nero ha vinto Gigi prende E vabbè Ragazzi Tagli Gigi Gigi E vabbè Ma Che Per chi non lo saprà E Tipo Un modo di dire Che per esempio Lo stai ridendo Ma stai morendo Dalle risate Vabbè Lasciamo aperto Allora Start Per il nero Il nero Tutto gasato Ha 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 il mio posto Orange Che ha Il colore Arangione Bene Questo Sono cose Che si devono fare Eh già Allora Io mi metto il ciano E mi metto Anche Il freddo mercoli Start C'è C'è I capelli Il freddo mercoli Allora Noi possiamo fare Sette Emergence Meeting Kill countdown 30 Kill distance Shirt Peccato Sarà molto corta La situa Non pensate male Allora Start Oh Ma start Oh Finalmente Ssshh Spero che non sono impostore Ssshh Ok Meno male Go Però Spero Però Lo sanno che io mi finco Di essere impostore Quando non lo sono Quindi non è molto realistica La situa Vabbè Lasciamo stare Allora Non si vede Mi vede i piedi Ma dai Mi vede solamente Ma Questo Ma 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 questo è un hacker E' un hacker Ok Attenzione Qua C'è una situa Molto Per 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 Spicarci Ma Ma quello è un hacker Ma io abbandono Allora Sono un hacker C'è un hacker Devo abbandonare Perché quelli là Già Ma non ce ne sono Perché quelli là Hanno capito Che io faccio Il Lo sono detto Capì No Perché abbandonare Start Busco Forse è uno Che vuole Startare Ecco Ho parlato Non sto Startando Più Noob Ciao Io in posto Vabbè Sorry Orange Io sono andato Monge Sto Capire La mazza Vabbè Stattate Mamma C'è bello che Stattate E poi quelli là Escono Oh Finalmente Finalmente Ma no Ma se non posto Allora Questa ce la giochiamo Questa ce la giochiamo Allora Sperandosi Non fare la fine Del vero impostore Quando lo so Per davvero Allora Facciamolo Sto Giustando Sì Su Sì Ok Lo ci do Lui Scappo 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 Ok Perché mi sa Che io Non vedo Lui Ah In atto Intersegola Orange Death Abbiamo capito Ma 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 Perché Ma Perché Io Ma 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 Perché C'è È vero Però L'ho Fatta Vedere Oh Avevo La telecamere Ma Io Util Giallo Cioè Modestamente Yellow Yeah Mi sta coprendo Vabbè Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo Video Ciao Cioè Mi votano A caso Vabbè Ci vediamo Nel prossimo Episodio Ciao